Giulio, di là, quella è la camera, mi levo gli occhiali, ti piaccio con questo giallo tra canarino e senepe? Questo giallo, oramai che sto diventando il mago della color correction, poi in post produzione dovrò fare molta attenzione a quanto spara questo giallo E beh, io lo faccio apposta per mettermi in difficoltà Yamaha NS800N, ne abbiamo parlato già molto Le avete già viste parecchio nell'arco degli ultimi tempi, perché negli ultimi video le abbiamo utilizzate Le abbiamo lungamente ascoltate in diversi contesti E le abbiamo trattenute il più possibile qui da noi Perché ci sono piaciute tantissimo E purtroppo abbiamo, come dire, raggiunto l'ultimo momento utile per realizzarlo il video Perché insomma ci piaceva tanto tenercele Ma adesso devono prendere la via di casa Di casa Gran belle casse Gran belle casse, veramente belle casse Quindi seguiteci perché tra poco vi spieghiamo perché ci piacciono così tanto Ciao Ciao Giulio Ti vuoi, ma questo lo fai perché vuoi ballare un waltzer con me per caso Ma in realtà questa è la bellissima colonna sonora del film Oscar La La Land Esatto Che ho rivisto qualche giorno fa e mi sono poi andato a recuperare E' molto bella E' molto bella La colonna sonora del La La Land che è veramente molto bella Molto bella, sì Allora, veniamo a questi speaker Yamaha NS800 Dico bene Allora, NS800 che fanno parte della linea premium Premium speaker Sì Ci sono diverse linee Questa, ma lo si intuisce Insomma è quella più prestigiosa Vogliamo cominciare subito a dire Ci sono le ditate Colpa tua Lo so Esatto Ci sono le ditate nonostante E non c'è la pezzetta Dove sta la pezzetta? Perché l'ho nascosta Eccola Eccola lì La mia pezzetta Pulisci Allora, intanto che io tolgo la ditata Tu potresti dire il prezzo di questi diffusi 4400 euro di listino Sì Più gli stand opzionali Che costano mi pare 1400 euro Più o meno siamo lì Non ne sono assolutamente certo del prezzo degli stands Ma sono certo del prezzo di listino dei diffusori Esatto Per il quale tu verrai denunciato presso la pubblica autorità Perché costano troppo cari Ah, senza dubbi Senza dubbi Però voglio dire una cosa Giulio Sì Sono molto Sono costruiti benissimo Sì E hanno una particolarità che tanti stands non hanno Sì Che è quella di avere in dotazione delle splendide viti di serraggio per i diffusori No, allora, sono degli stand costruiti in maniera Superba E tra l'altro c'è da fare una piccola considerazione Eccola la vite di serraggio La vitona di serraggio C'è da fare una considerazione Molto spesso gli stand dei diffusori Arrivano completamente smontati Questo significa che non solo li devi assemblare Ma anche che sono un insieme di pezzi Che possono essere, come tutte le cose, frazionate Soggetti a movimenti, risonanze, accoppiamenti non particolarmente ben fatti Questi sono un monoblocco Arrivano montati Arrivano dentro degli scatoloni Giganti, atti a contenerli Quindi è del tutto evidente che sono degli stand di una rigidità, di una pesantezza Fatti veramente in maniera... Alcune volte i prezzi degli stand sembrano un prezzo esagerato In questo caso è un prezzo assolutamente giusto Perché stai comprando qualcosa di veramente fatto bene Tra l'altro Laccato, rifinito, bellissimo Tra l'altro c'è da dire una cosa Che per motivi veramente un po' sconosciuti Molto spesso capita che il diffusore da stand Suona con i suoi stand Ma non suona con altri stand Vi ricorderete forse l'esperienza fatta con le Vivid Kaia S12 Che non abbiamo fatto qui in video Ma abbiamo fatto sulla carta stampata Quelli sono dei diffusori che con i loro stand Sono stellari Appoggiati su uno stand qualsiasi, anche buono Il castello di carte crolla completamente Non sappiamo se in questo caso è vero o no Perché non l'abbiamo provato con altri stand Però con questi stand sono stellari pure questi Allora, tecnologia Scusami, dico ancora un'altra cosa Questi sono, e lo potete vedere chiaramente Nelle immagini che stanno scorrendo Sono dei mini, per modo di dire E sono dei bookshelf, per modo di dire Come vedete le dimensioni sono abbastanza generose Quindi sono chiaramente dei diffusori che vanno sullo stand Sono chiaramente dei diffusori che avendo il tubo d'accordo posteriore Hanno bisogno di una certa distanza dalla parete di fondo Insomma, vanno messe in campo delle accortezze Che servono a farli funzionare al meglio Esatto Allora, woofer da 16 Twitter, loro dicono da 3 A me sembra da 2,5 Bass reflex posteriore Efficienza 86,5 86,5 Quindi più o meno nella media dei diffusori di questa grandezza La cosa che balza all'occhio È indipendentemente dal fatto tecnico Che poi specificheremo È la rifinitura in Black, nero Black piano E veramente sembra proprio la stessa finitura di un pianoforte Sì Ecco Che poi abbiamo avuto già modo di apprezzare Sia nell'integrato 3000 e 2 Che nel Sinto Come si chiama? Nel receiver Nel receiver 2000 Che abbiamo provato qualche tempo fa Quelli avevano le fiancatine Laccate nere Questo è un mobile totalmente laccato nero Ed è laccato in modo veramente strepitoso Sì, assolutamente Allora, scusami un attimo Molti dicono laccato nero Io ne ho viste tante di casse laccate nere Sono belle Ma qui hai la netta sensazione Che chi ha laccato lo sapeva fare veramente bene Sì Ecco Nell'ambito ancora delle informazioni di natura tecnica Diciamo che evidentemente è un due vie Questo lo si capisce chiaramente E che la frequenza di incrocio fra il componente dei medio-bassi e il tweeter È posta a 2.6 KHz Quello che poi sappiamo Perché in realtà le informazioni tecniche sono piuttosto risicate E quindi non c'è alcun tipo di dichiarazione Di come è fatta la membrana Il materiale della membrana Nulla Scopriremo magari qualcosa di più dello sventramento Ma, caro Giulio C'è una trombetta dietro al tweeter C'è una trombetta dietro al tweeter Che vedremo E entrambi i componenti Sono dotati di un sistema di assorbitore d'onda posteriore Esatto Questa è una cosa che l'abbiamo trovata in diversi altri diffusori Forse capostipite in tal senso è stato il progetto Nautilus della BMW Vi ricordate con quelle lunghe propaggini poste dietro a ogni driver Che servivano a contenere degli assorbitori fatti a forma di tubo Le stesse Vivid Audio di produzione attuale hanno un sistema analogo E qui, lo vedremo più tardi Dietro al tweeter c'è uno stranissimo oggetto Sempre una sorta di tubo Però piegato in se stesso Sembra un po' il corpo di una tromba Esatto Di un sassofono Di un sassofono Una tromba, vabbè E invece quello relativo alla parte bassa È un tubo piegato Quindi una sorta di C a sezione quadrata Quanto meno da quello che abbiamo visto sulla carta Poi adesso lo verifichiamo Uno sopra e uno sotto Uno messo sopra e uno messo sotto Comunque l'idea è che anche questi diffusori Hanno al loro interno un sistema di assorbimento Della emissione posteriore Che non è fatta come viene fatta nel 99% dei diffusori Con del materiale assorbente Invece in questo caso c'è questo sistema Che loro dicono essere ispirato dagli strumenti musicali Dal punto di vista della costruzione Della geometria del mobile Il mobile non ha pareti parallele Quindi sul baffle è più largo rispetto che sul pannello posteriore Non c'è un angolo retto Sono tutti quanti raccordati Quindi sono raccordati in questo senso qua Sono raccordati sul posteriore Diciamo l'unico angolo Anche se la finitura è Diciamo Non ad angolo vivo Ma smussata È questa qui Non è possibile in nessun modo Vedere il punto di giunzione Perché la laccatura è talmente ben fatta Talmente precisa Che copre tutto Quindi non vedete le giunzioni fra i pannelli Che pure evidentemente ci saranno E tra l'altro si vede quanto la laccatura Soprattutto la lucidatura successiva Perché prima viene fatta la laccatura E poi viene dato gli strati di vernice trasparente Se ci fai caso In queste casse Le tipiche rigature Che normalmente si vedono In una laccatura nera standard Non ci sono Probabilmente perché Gli strati di lucido sono più di uno Sono più di uno Allora è incredibile Non credo che sul Il video si riesca a riprodurlo Ma vediamo È veramente uno specchio Io qui vedo riflessa La lampada In maniera perfetta Completa Da questo punto di vista Della realizzazione È una cura degna di uno strumento musicale Sì Comunque rispetto al prezzo di listino Perché poi va sempre parametrizzato Al prezzo di listino A 4.400 euro la coppia di listino Lo street price È diciamo Abbastanza inferiore Io non ho mai visto Una cassa Così Così Va anche detto Che queste casse Che Yamaha Italia Ci ha gentilmente Concesso in prova Sono delle casse Che il loro giretto Per tutta Europa Attraverso giornalisti Redazioni Insomma se lo sono fatto Non c'è un segno Non c'è niente Quindi evidentemente Deve essere anche Una laccatura piuttosto robusta Ripeto Contrariamente a tante Che abbiamo visto Che come le guardi Si segnalo Bass reflex posteriore Con una forma di tubo proprietaria Proprietaria E sotto due bellissimi Binding post Sempre fatti dalla Yamaha Che loro chiamano Come li chiamano? Non lo so Non me lo ricordo Lo vediamo dopo Lo vediamo dopo Però non sono predisposte Per il B-Waring Ecco L'unica cosa Che a me Che sono fissato Per la multiamplificazione passiva Non piace È la non predisposizione Per il B-Waring Che in una cassa Di questo livello di prezzo Sinceramente Mi sarei aspettato Questa forse È l'unica L'unica Cosa L'unica critica Che mi Che mi sento di muovere Sono pronto? Sì a questo punto Sei pronto Io sono Molto preoccupato Però Eh vabbè Speriamo bene Speriamo bene A tra poco Ciao Ti piace? Sì Ma La domanda è Che materiale è? È un polimero Giusto? L'abbiamo studiato È una miscela È una miscela Di Un materiale vegetale È un polimero Che si chiama Zilon 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 Esatto È un materiale Particolarissimo Che non Al tatto Al tatto Sembra cellulosa Sembra cellulosa Ma poi Non è cellulosa Cioè si capisce Che non è cellulosa Ma veramente Non è molto chiaro Che cosa sia È la cosa più interessante È che la stessa È lo stesso materiale Che viene usato Sia per il woofer Che per la membrana Del tweeter Il profilo di questo Di questo cono Privo di parapolvere È diciamo dritto O è esponenziale? È esponenziale Come parli bene È leggermente esponenziale Sospensione in gomma Cestello in alluminio Sì Campate di forma Per evitare le riflessioni vicine Ok Sistema di ventilazione Molto sofisticato Mettiamoci qui sotto Vedete il movimento Aspetta Inclinalo verso Verso di me Così? Sì Ancora così? Ancora 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 Inclina Inclina E ancora 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 Oh eccolo qua Ok Vedete quei fori Sono fori di ventilazione E se io tiro su Vedo l'abbina mobile Ok Ok Quindi questa La ventilazione La fa Attraverso questi fori Con quei fori Che vedete Dove entra l'aria All'interno della bobina mobile E poi Da dove esce l'aria Chiedimelo Da dove esce l'aria Da qua Da questo foro Ok È curioso Questo sicuramente È un errore Perché qui c'è scritto 6 ohm 20 watt Che è più o meno La stessa cosa Che c'è scritta sul twitter Quindi forse C'è stato Lì è vero Questo tutto mi sembra A meno che è un buffer Oh è anche vero Che questo è un Come si vede scritto qua Chiaramente Proto È un esemplare Di preproduzione Probabilmente Questo che ci hanno mandato Per cui magari Ci sta anche qualche cosina Questa è la poso? Sì Posiamo Allora adesso Che facciamo Vediamo dentro O vediamo prima Il sax dietro il twitter? Vediamo il sax dietro il twitter Ok Estraggo il twitter Ecco qua Prima di far vedere il sax Facciamo vedere la mendelina Ecco qui Ok Stesso materiale Incriviamelo leggermente Verso di me Per favore Ecco qua Ecco Perfetto Così togliamo La difflessione Della lampada Sì Vai lo giro Lo giro? Vai Sorpresa Guardate che meraviglia Il famoso risuonatore Risuonatore Qualcuno di voi si chiederà A cosa serve questo risuonatore? Molto semplice Siccome il twitter Le emissioni anteriori del twitter Corrispondono controfase Con le emissioni posteriori Questo sistema Che è un sistema Molto sofisticato Serve a Smorzare Smorzare Totalmente O quasi Completamente Le emissioni posteriori Della cupola Questo fa sì Che la cupola Quando Compie il suo movimento All'indietro Non Abbia delle compressioni Perché i twitter Che invece sono Chiusi qua dietro Sull'emissione posteriore Del twitter Hanno delle compressioni E quindi delle distorsioni In questo modo La distorsione Non si ottiene Quando è che Si raggiunge il massimo Quando la canna Posteriore Al twitter Ha una lunghezza Superiore Alla massima lunghezza Donda Di emissioni del twitter Per esempio Le nautilus Che hanno sopra Una canna Molto molto lunga Questa è Una sintesi Per riuscire A inserire All'interno Di un contenitore Di dimensioni Più casalinghe Un risuonatore Che faccia Praticamente Lo stesso mestiere Ma in dimensioni Molto più Anche perché È una canna ritorta Sostanzialmente È molto interessante Vedere come c'è Questa parte Vedi Questa parte Dove sicuramente Le emissioni posteriori Un po' vanno a destra Un po' vanno a sinistra Un po' finiscono In questo In questa sorta Di strozzatore Di strozzatore Poi c'è questa Camera di decompressione Più ampia Più ampia Che raccoglie Anche Le due emissioni E questo sicuramente Non è stato fatto Perché era bello Anche perché Nessuno lo vede Bravissimo Ma semplicemente Per allungarne La corsa Passatemi il termine Ok? A questo Lo posso posare? Sì Assolutamente sì Non so come fai Ma va bene Il contraltare La controparte Di questo Lo troviamo All'interno Del diffusore E a questo punto Mi posiziono In questa maniera Qua Per cercare Di mostrarlo È molto difficile Ma eccolo Vedete Questa sorta Di struttura A C Che stiamo mostrando Togli il ditino Sennò va fuori fuoco Ecco Questa struttura C Che forse Riuscite a vederlo Sopra Nella parte superiore Ha due bocche D'ingresso Fa esattamente Lo stesso mestiere Ma a frequenze Più basse Quindi Tenete conto Che questa specie Di C Che costituisce Sostanzialmente Un tubo Di cartone Piegato E Riempito Di coibente Acustico Fa esattamente Il mestiere Che fa Quello che avete visto Sopra Attaccato al twitter Ve ne sono All'interno due Noi adesso Stiamo inquadrando Verso il fondo Del diffusore Ma se Andiamo Dall'altro lato Eccolo qua Che troviamo La tua Controparte Di dimensioni Differenti Perché questo è Nettamente più lungo Però Valero sempre Lo stesso principio Come vedete Qui Si vede Nell'inquadratura Abbastanza bene Il fatto che Il tubetto È di cartone A sezione quadrata Poi c'è Un coibente Acustico Forato Circolarmente All'interno Quindi una cosa Piuttosto sofisticata Questo foraggio circolare È sicuramente L'accordo L'accordo Esattamente Esattamente Oh già che ci siamo E lo sto inquadrando Una menzione Sul cablaggio interno Questo è quello Del twitter Questi sono cavi In teflon Si Teflon e argento Si Sofisticatissimi Di alta Il teflon È di elettrico Dal rivestimento Si esatto Di alta sezione Faccio presente Che Il teflon Viene normalmente Utilizzato Con cavi Di altissimo livello In questa inquadratura Si vedono anche Le madre viti Affogate nel legno Che servono All'ancoraggio Sto dicendo Una sciocchezza No All'ancoraggio Del twitter Esattamente Esattamente Poi facciamo vedere Il tubo In basse reflex Oh il tubo In basse reflex Lo faccio vedere Da qua dietro Esatto Perfettamente Eccolo qui E si vede Che Tra l'altro Tagliato Svasato Tubo In cartone Bloccato Da quella sorta Di Sembra Un grosso Dado Si E poi Subito Dietro Vediamo Il crossover Che sto inquadrando In questo momento Una cosa Molto interessante E prestigiosa È che Il gabinet È fatto Tutto in legno Ed è rinforzato In mdf Perché se ci fate caso Queste sono pareti in legno Ok In fondo Anche lì Si vede la parete in legno Qui sotto Dove c'è il basse reflex E tutti questi Sono senti di rinforzo Sono senti di rinforzo In mdf E il filtro Facciamolo vedere Giulio Si Aspetta che Mi sposto Scusate ma Ecco Ecco Perfetto È totalmente Cablato In aria Ed ha Sul Sul twitter Un unico Condensatore Del Mundo Mcap Supreme Quindi quello Il top di gamma In assoluto Finito Sampare Che La parte posteriore Facciamo vedere I building post E facciamo vedere Anche il tubo d'accordo Perché come vedete Il tubo d'accordo Al di là della parte Di cartone Che sta interna Poi vedete Che c'è la parte Più profonda Che è in plastica Che è quella nera Che adesso Andiamo a inquadrare Perché è dotata Di un profilo Particolare Profilo brevettato Da Yamaha Ecco Questi sono Dei profili Che normalmente Vengono adottati Per minimizzare Il rumore di turbolenza All'uscita Del condotto di accordo E i building post Invece Eccoli qua Li stiamo inquadrando Molto belli Molto ben fatti Ok Direi che Che ci siamo Una costruzione Sicuramente Molto originale Rispetto a qualsiasi Altro diffusore Giulio Tra l'altro In questa inquadratura Avete visto Rispecchiata La scatola Del mio modellino Che mi sto costruendo In questo momento A testimonianza E nonché Dei cotton fioc E delle Pezzette Per pulizia A testimonianza Del fatto Che sono sostanzialmente Rifiniti Quasi a specchio Se non proprio a specchio Se non proprio a specchio Cari follower Spero vi sia piaciuto Perché questo È il mio diffusore Del cuore Ciao Te lo do io a te Caro Giulio Questo lo possiamo Cominciare a chiamare Il Lacrimuccia Award Bravo Perché già Mettete il punteggio Lacrimuccia Award Il premio Lacrimuccia Award Funziona Il Lacrimuccia Award È quando Un prodotto Ci piace tantissimo Queste casse A me Sono piaciute Da morire Da morire Non voglio manco Parlare Come I bassi Gli alti Dobbiamo passare No no Tu continua pure Io I bassi Gli alti Medi Sono stupende E una cosa Che mi piace Scusate C'è un po' Di sinusite Mi piace più Di qualsiasi Altra cosa È Il ritmo Queste casse Hanno un ritmo Impressionante Quando Ci abbiamo sentito Il Technics 1210 Con la testina Quintet Sì Ci aveva Un senso Del ritmo Sconvolgente E adesso È vero che è Il giradischi Perché l'abbiamo sentito Anche con la testina MM E non è la stessa cosa Ma adesso Sentendo per esempio Adesso In questo momento La La Land Che tanto Ti appassiona In questi giorni C'è un assolo Di batteria E qui è Impressionante Sembra di avercela davanti Batti il piede Ti diverti Ti piace Ti appassiona Le voci sono Spettacolari Sono delle casse Meravigliose E ti dico di più Giulio Anche se questo Forse a te Non piacerà Io queste Le metto Sullo stesso Identico piano Delle Martin Sono casse Diverse Ma dal punto di vista Del livello Qualitativo Secondo me Sono allo stesso Identico livello Tu cosa ne pensi Giulio Tu che sei Meno coinvolto Vai Beh no Aspetta Lo sono coinvolto In quanto le Martin Sono le mie Lì il coinvolgimento Indubbiamente c'è Allora È vero Anche perché Dal punto di vista Della cubatura Queste e le Martin Se la battono Sono entrambe due vie Sono entrambe Bass reflex Entrambe Non sono predisposte Per il rewiring Quindi diciamo Ce ne sono molti Di elementi Di contatto Di analogia E diciamo Che le Martin Le trovo Forse un po' Più Sognanti Queste le trovo Decisamente Più concrete Esatto Però Dal punto di vista Se vogliamo Proprio della fascia Della categoria Dell'importanza Del diffusore Secondo me Se la battono E dove Queste Credo Che Qualche differenza Qualche punto Di differenza In più Rispetto alle Martin Ce l'abbiano E sul volume Sul corpo Che riescono A infondere Alla Alla Musica La cassa Della batteria Alla quale tu Facevi riferimento Tra queste Le Martin Questa è un po' Più immanente Si sente Un po' Più di corpo Però Ad esempio Con le voci C'era sempre Dalla La Land Il pezzo Del duetto Con il pianoforte Dove c'è Lui e lei Che cantano Lì le voci Delle Martin Forse sono Un pochettino Più eterie Ci hanno Qualche Sfumature In più Però è Veramente Questione di gusti E va detto Queste costano Un po' Meno delle marche Un bel po' De meno Eh si Ci ballano 3.000 euro 2 Ce ne ballano 2 Ce ne ballano 2 A parità di diffusore Completo di stand Comunque Senza fare paragoni Queste sono casse Io le consiglierei Un po' Un po' A tutti Mi sono fatto Un po' Di giri Specialmente Durante il periodo Natalizio Con la musica Sinfonica Con queste casse Qui E devo dire La capacità Che hanno Unite Abbinate A Ne sono passati Un paio Almeno Forse anche 3 Di amplificatori Però Un buon DAC Che è il nostro La scala MK2 Di Aqua Acoustic E ripeto 2 o 3 amplificatori Di buon livello E la capacità Di riuscire A restituire Il senso Della profondità Dell'orchestra Con le varie Sezioni Posizionate Collocate Al posto giusto Devo dire È stato Piuttosto Emozionante E anche La capacità Di questi Diffusori Di sottolineare Mi è molto piaciuto Le Come posso dire Repentine E Variazioni Dinamiche Tipiche Dell'orchestra Pensa ad esempio Quando ci sono dei pieni In cui entrano gli ottoni O ad esempio Nel requiem tedesco Che sentivamo Anche ieri Dove c'è Una parte Di timpani Che si ripete Quasi ossessivamente Questi diffusori Erano Lì Che la sottolineazione Continuavano Con grande grazia Con grande autorevolezza E questo Devo dire Mi è molto piaciuto Ma cari amici Falle Abbiamo anche fatto Un'altra cosa Ancora più Abbiamo collegato Queste due cassette Perché mi viene da dire Così Rispetto a quello Che abbiamo fatto Ha un integrato Solution Da 25 mila euro 29 mila euro E abbiamo goduto Oltremoto Sì Allora Quell'integrato lì Del quale poi Faremo un apposito video È dotato di una Autorevolezza Diciamo Veramente Ai massimi livelli E come Spesso accade Ai prodotti Della solution La sensazione Di questa Ampiezza di banda Sostanzialmente Infinita Cioè dal Basso Più basso Che puoi immaginare Fino all'estremo Acuto Più alto Il tutto Senza mai Una variazione Senza una Incertezza Con la stessa Pacata Tranquillità In ogni situazione Dal pianissimo Al fortissimo Insomma È un amplificatore Che si presuppone Venga utilizzato In un contesto Di pari prezzo Un amplificatore Da 30.000 euro Lo si immagina Suonare Con diffusori Più o meno Della stessa fascia Di prezzo Devo dire Che quell'amplificatore Queste Yamaha Le ha fatte Volare Letteralmente Evidentemente Però Ecco Queste Yamaha Non hanno prestato Di fianco A critiche Cioè Anche messe In un contesto Così Come dicono Gli americani Demanding Cioè Così Richiedente E queste Hanno tenuto Botta Alla grande Tra l'altro Stiamo parlando Di Sala 1 Dove c'è anche Un DAC Molto importante Insomma Era un contesto Molto Molto Importante E queste Veramente Non hanno Battuto ciglio Già solo Il pensiero Di portarcene Dovrebbe far capire I nostri Ferro A che livello Di diffusore Siamo Ci è venuto in mente Ma perché Non la proviamo Perché non le proviamo Nell'altra sala E sì Ecco Con quell'amplificatore Veramente Ci hanno stupito Quindi Prodotto Passato Passato A pienissimi voti Allora Anche in questo Caso Forse Magari A noi Piacerebbe Che questo video Potesse In qualche maniera Aiutare E Siamo abituati Un po' Da audiofiti A considerare I diffusori Yamaha Alla stregua Degli Yamaha Più Noti Quelli che Tutti Più o meno Hanno visto Almeno una volta In fotografia O magari Li hanno sentiti Le 2000 Sì Le S10 Che erano quelle piccole Ecco Io le S10 Se penso al diffusore Yamaha Ho in mente Il banco di regia Con quelle lì Con il loro Cono bianco E diffusori Eccellenti Che io Ho anche provato A lungo Qui da me E Però ecco Magari uno Se li immagina Collocati In un ambiente Di regia Quindi Non pensa Al diffusore Yamaha Come un diffusore Importante Da ascolto Da audiofilo Ecco Queste qui Azzerano Questo pensiero Sbagliato Lo azzerano Completamente E ti dicono Che questi signori Che progettano E realizzano Da una vita Strumenti musicali Sanno fare Anche I diffusori Subscribe Campanella Però apro Anche Una raccolta Fondi Per cosa Per comprarmene Scusa Tu non me le regali No vabbè Tanto c'è tempo C'è tempo Va bene Grazie Ciao 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 Ciao